Ben ritrovati in questo nuovo appuntamento con l'informazione del telegiornale ETV City. In apertura il flash mob che si è tenuto in tutte le scuole di Torre del Greco per sensibilizzare ragazzi e genitori sull'importanza del corretto conferimento dei rifiuti, il commento anche del sindaco. E sempre sull'emergenza rifiuti a Torre del Greco abbiamo ascoltato l'assessore Cinzia Mirabella che ha anche spiegato i recenti interventi per risolvere le principali criticità. Passiamo ora all'emergenza sanitaria con l'annuncio del commissario Figliuolo. Da giugno i vaccini potrebbero diventare accessibili a tutti a prescindere dalle fasce d'età. Ora la cronaca con l'operazione ad alto impatto dei carabinieri su tutto il territorio di Torre Annunziata e dei comuni limitrofi, tre gli arresti. In conclusione la denuncia del forum dei giovani di Torre del Greco da sei mesi senza una sede nel silenzio dell'amministrazione. Questo ed altro nei nostri servizi. giornata di festa nella scuola di Torre del Greco. Questa mattina il flash mob per la sensibilizzazione di alunni e genitori nel giusto conferimento dei rifiuti. Partire dai giovani per poter educare la popolazione soprattutto nei confronti di una delle problematiche principali del territorio, i rifiuti. L'amministrazione di Torre del Greco insieme al corpo della polizia municipale ha incontrato gli alunni di tutte le scuole di ogni ordine e grado spiegando loro le azioni a contrasto dello sversamento dei rifiuti attraverso fototrappoli. Grande la partecipazione dei plessi scolastici del territorio che hanno appositamente preparato striscioni, cori e balli. È stata una giornata diversa, una giornata bella, colorata, allegra, dove i ragazzi, i nostri bambini hanno insegnato tantissimo a noi adulti. La partecipazione del mondo della scuola è stato commovente. In ogni istituto della città abbiamo registrato delle manifestazioni che hanno credo toccato il cuore e la sensibilità di ognuno di noi. Adesso però tocca a noi adulti dimostrare che abbiamo imparato e sappiamo rispettare le regole. Il rifiuto va depositato sotto la propria abitazione. Non è pensabile che si possa assistere ormai ripetutamente da giorni allo sversamento in punti non autorizzati. Questo oltre a sporcare la città, sporca la dignità e l'orgoglio di noi torresi. Quindi davvero per quanto mi riguarda un ringraziamento forte, sentito, sincero agli alunni, ai ragazzi, ai docenti, al personale scolastico, ai dirigenti scolastici che hanno fatto sentire forte il proprio aiuto. Sono stato in tante scuole della nostra città e la partecipazione dei ragazzi è stata veramente di un entusiasmo con cori, con quadretti, di tutto di più. Io vi devo dire onestamente sono rimasto entusiasta e ho applaudito a quella che è la futura generazione. Come sempre le responsabilità sono solo ed esclusivamente dell'amministrazione. Tutte le colpe sono sempre e solo del sindaco. Mi prendo sempre tutte io le responsabilità. Ma stamattina avere questa gioventù, questi ragazzi di tutti gli istituti a partecipare, hanno accolto quella che è la richiesta fatta dall'amministrazione comunale, dall'assessore Pensate, dall'assessore Mirabella, con la partecipazione del consigliere Miele e il delegato all'NU, di darci una serie di loro stessi, ci hanno imbogliato, imbogliano i loro genitori, la cittadinanza, a collaborare con l'amministrazione. Unica responsabile, ma questi ragazzi hanno dato la massima collaborazione. Un grazie, un vero grazie a tutti voi, siete il futuro della nostra città. Io ho applaudito a tutti quanti e continuo a dire, e grazie di questa intervista, che veramente è stato bello stamattina vedere l'entusiasmo. Grazie a tutti. Queste sono alcune delle immagini delle scuole facenti parti del Flash Mob, presto lo speciale di TV City con tutte le iniziative della giornata. Tante ancora le criticità legate ai rifiuti a Torre del Greco. Ai nostri microfoni l'assessore Cinzia Mirabella, che spiega anche la nuova nomina nella dirigenza NU. C'è stato questo cambio di dirigenza, ma ci tengo a precisare che c'è una massima stima per la dottoressa Sacco, come donna, come dirigente. Si è inteso soltanto alleggerire e di ridistribuire i carichi di lavoro e al fine di rendere migliore un servizio che in questi tempi purtroppo sta avendo una serie di problemi, soprattutto per il diserbamento, soprattutto per alcune zone della città dove ancora assistiamo a un prelievo non regolare del porta a porta. Proprio con le nostre telecamere in questi giorni abbiamo evidenziato alcune criticità. Ad esempio la prima è quella degli ingombranti, che non vengono raccolti e depositati in qualunque luogo della città. Diciamo che c'è anche un abuso, nel senso che da una parte c'è una non regolarità nel prelievo degli ingombranti, così come stabilito da contratto. Dall'altra parte abbiamo anche assistito però ad ingombranti lasciati in zone isolate della città e tante volte anche messi con numeri non realmente che corrispondono a quelle che sono le chiamate che si fanno normalmente con il numero verde e con la mail indirizzata direttamente alla buttole. Diciamo che i problemi sono duplici e possono essere risolti innanzitutto con il sito che si trova a Santissima Trinità, dove possono essere portati gli ingombranti e dove molte volte le persone per pigrizia, per non conoscenza, preferiscono non depositare lì. Quindi ci troviamo molte volte degli ingombranti lasciati in zone della città, a volte anche con numeri, ripeto, che non esistono. Bisogna migliorare il servizio sul controllo, sulla vigilanza, su più siti da aprire per poter lasciare ingombranti, perché comunque ricordo che la città è coperta soltanto nella zona centro, mentre la periferia ancora non ha una zona dove poter conferire ingombranti. Quindi questa situazione deve risolversi. Altra criticità è quella dei sacchetti depositati illegalmente e non raccolti. Ad esempio abbiamo il caso ogni lunedì mattina. Sono cumuli storici, nel senso che oramai le persone sono abituate a depositare in luoghi e non vogliono depositare con il porta a porta. Il problema della N è un problema difficile, nel senso che molte persone non vogliono avere fuori casa i propri rifiuti. Deve cambiare la mentalità, perché se ognuno di noi ha fuori la propria porta, i propri rifiuti, ovviamente si evita il cumulo che si forma in zone critiche della città. però devo anche dire che c'è ancora la non cultura differenziata e non c'è ancora la cultura del sacchetto nero, che ancora vedo per strada. La busta nera non permette all'operatore di capire all'interno cosa c'è. Se oggi si prende carta e non si vede all'interno che c'è carta, o se si prende plastica e non si vede che c'è plastica, l'operatore non è autorizzato ad aprire il rifiuto. Quindi queste buste rimangono abbandonate per strada. Quindi invito ancora una volta la cittadinanza ad utilizzare le buste trasparenti che possono permettere di capire all'interno che cosa ci sia. Altro punto critico è quello dell'erbaccio in città. Sembra mancare quasi completamente l'opera di disservamento. No, è proprio un manca. C'era un cronoprogramma che andava rispettato dalla ditta Butol, che purtroppo non sta rispettando. Vengono applicate ogni giorno delle penali per il mancato conferimento del lavoro. Quindi stiamo procedendo ovviamente per quelle che sono le nostre possibilità perché è inconcepibile pensare che c'è un cronoprogramma da rispettare, delle strade che andavano diserbate e che vengono lasciate dall'oggi al domani così in uno stato di abbandono. Al netto delle varie critiche, quali sono gli interventi che invece si stanno compiendo per migliorare la situazione? Stiamo intervenendo su questi cumuli storici e cronici con l'intervento della Polizia Municipale e con l'intervento dell'ufficio e con l'utilizzo anche di telecamere che in questi giorni stiamo montando e abbiamo già montato. Dei risultati li abbiamo avuti con alcune zone già dove abbiamo impegnato il personale della Polizia Municipale e il personale dell'ufficio NU che sono andati proprio fisicamente in queste stradine, in queste anche piccole piazzette dove c'erano dei cumuli riconducibili a delle famiglie. Siamo andati lì proprio ad educare, a spiegare, a volte anche a multare. Abbiamo già una serie di persone che sono state identificate per numero di targa ma anche per riconoscimento in quanto abitanti del luogo. Quindi abbiamo già purtroppo delle prime sanzioni e continueranno queste sanzioni perché ovviamente chi sbaglia deve pagare. Noi su questo siamo sempre stati molto duri, non faremo un passo indietro perché non è corretto perché chi differenzia deve essere tutelato. Chi paga ovviamente una tassa della NU così alta deve essere tutelato ed è inconcepibile un disservizio. Abbiamo iniziato con via Cappello Refici, abbiamo eliminato un cumulo storico e abbiamo proseguito con via Nuova Trecase. In questa settimana stiamo affrontando i cumuli che ci sono in primo e secondo Vico Abolito Monte. Abbiamo anche, però devo dire, lì con uno scarso successo affrontato Vico Tortora, sarebbe sulla Nazionale, dove c'è un cumulo continuo di ingombranti che purtroppo non riusciamo a debellare nonostante ci sia stato un continuo controllo della Polizia Municipale. Nei prossimi giorni anche lì metteremo delle telecamere che sono arrivati questa settimana. Quindi speriamo che con l'utilizzo di tutte queste forze messe in campo di poter risolvere il problema. A partire da giugno i vaccini potrebbero diventare accessibili a tutti, ignorando le fasce d'età. Il governo valuta di rimuovere tutte le restrizioni e di far sì che tutti gli italiani possano prenotare quando vogliono il vaccino. La circolare è pronta e arriverà entro il 10 giugno. In Lombardia le prenotazioni per gli over 30 sono già partite ieri, prima della mezzanotte. Ora si attende il via libera dell'EMA per le somministrazioni per i dodicenni. Nonostante la calendarizzazione, pare che la circolare della struttura del commissario Francesco Paolo Figliuolo potrebbe dare l'ok ai vaccini senza distinzione di fasce d'età anche prima. L'obiettivo è di allineare le regioni in modo da evitare che ci siano aree del paese che corrono e altre che rimangono indietro, soprattutto rispetto agli anziani e ai fragili. Per questo si è deciso di attendere ancora un paio di settimane, chiamando tutti a rispettare la priorità degli over 60. Soltanto dopo si potrà sciogliere il nodo principale, la seconda dose da somministrare a chi è in vacanza. Avendo dunque immunizzato per la gran parte i soggetti a rischio, quelli definiti fragili gli anziani, e visto l'arrivo di numerose dosi di vaccino per le prossime settimane, l'idea è quella di consentire a tutti di potersi vaccinare. 20 milioni sono le dosi previste per il prossimo mese. Sugli over 80, che è la categoria più a rischio, abbiamo vaccinato oltre il 90%. Ne mancano all'appello 460.000, spiega Figliolo, ospite al programma di martedì sulla 7. Per gli over 70 siamo all'80% e ne mancano 1,2 milioni. Sugli over 60 siamo a oltre il 65% e ne mancano all'appello 2,6 milioni, considerando la platea calcolata su tessera sanitaria. Adesso dobbiamo terminare queste classi andando a intercettarle in una maniera più proattiva rispetto a quello che è stato fatto finora. Si attende dunque ora solo i liberi tutti, i giovani si potranno vaccinare in farmacia e anche le aziende partiranno con le somministrazioni. Nelle città di Torre Annunziata e nei comuni limitrofi, i carabinieri della Compagnia Oplontina, nell'ambito dei servizi disposti dal Comando Provinciale di Napoli, hanno effettuato un servizio a largo raggio avvolto alla lotta dell'illegalità diffusa. 86 persone identificate, 31 veicoli controllati, perquisizioni alla ricerca di droga e controlli al codice della strada. I militari della Compagnia di Torre Annunziata sono stati supportati dai carabinieri del reggimento Campania e da quelli del nucleo cinofili di Sarno. Durante i servizi, a finire in manette per detenzione di droga a fili di spaccio, un 39enne di Bosco Reale, già noto alle forze dell'ordine. I militari hanno perquisito l'abitazione dell'uomo già sorvegliato speciale di pubblica sicurezza. In casa rinvenuti e sequestrati 60 grammi di cocaina e vario materiale per il confezionamento della droga. L'arrestato è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa di giudizio. A Bosco Tre Case, invece, i carabinieri l'hanno arrestato per violazione delle prescrizioni imposte dalla misura a cui era sottoposto, in esecuzione di un provvedimento emesso dal Tribunale di Napoli Nord, un 21enne del posto. L'arrestato è stato tradotto a carcere di Poggio Reale. Attore Annunziata ha denunciato per furto all'interno del centro commerciale di Via Veneto, un 23enne di Torre del Greco. Si era impossessato di una bottiglia di liquore. Durante le operazioni a Poggio Marino, i carabinieri hanno denunciato a piede libero per ricettazione anche un 42enne del posto. I carabinieri lo hanno fermato a bordo di un'auto, risultato a prevento di furto il 28 aprile scorso. A quasi sei mesi dall'insediamento, il Forum dei Giovani è ancora sprovvisto di una sede. Perché questo ritardo? Visto che tra l'amministrazione comunale e il Forum dei Giovani c'è un accordo giuridico, attraverso il quale ci permettono di rientrare nella sede a Palazzo Baronale, viviamo attraverso una convenzione che noi abbiamo richiesto di modificare e che ancora oggi, dopo tanti solleciti, lettere inviate, protocollate, senza mai una risposta, noi non abbiamo ancora la nostra sede. L'amministrazione quindi non ha mai risposto alle vostre richieste? L'amministrazione non ha mai risposto ai nostri solleciti fatti, sia attraverso lettere, sia attraverso chiamate, incontri. Dopo l'incontro che c'è stato con la quarta commissione il 5 marzo, dove abbiamo appunto revisionato quella che è la convenzione, da lì non c'è stato più un risultato della situazione. Cosa comporta per il Forum dei Giovani non avere una sede? Comporta che nel Forum, ma in generale per tutti i ragazzi di Torre del Greco, non esiste un luogo pubblico dove poter vivere il sociale, dove poter condividere delle tematiche, delle iniziative, dove poter tornare a studiare in aula, visto che noi facciamo anche aula studio e a Torre del Greco l'unica aula studio a Villa Magrina, e a Torre Centro non esiste. Attualmente sede ad Interim il Palazzo Baronale, che però può essere occupato solo per determinate ore e determinati giorni. Quali sono questi orari? Gli orari in generale sono dalle ore 9 del mattino alle ore 13, dalle ore 15 alle ore 21. Abbiamo fatto richiesta nella modifica della convenzione di allungare questi orari, almeno aggiungere dalle ore 13 alle ore 15, visto che già in sé è limitante restare all'interno del municipio, all'interno del Palazzo Baronale, e di aggiungere anche il sabato, visto che comunque i ragazzi, tra universitari e ragazzi che comunque vanno a scuola, hanno bisogno anche del sabato per poter svolgere le attività all'interno della sede. E non abbiamo avuto ancora risposta nemmeno su questo. Mesi di richiesta all'amministrazione senza una risposta. Come avete intenzione di procedere? Abbiamo lanciato sulla nostra pagina del forum una campagna di condivisione che speriamo di venti virale con l'hashtag free sede, in maniera tale da farci sentire anche attraverso i nostri canali di comunicazione ufficiale e da far capire all'amministrazione che noi non parliamo a nome di 24 consiglieri, ma di 500 e più ragazzi che ci hanno votato a ottobre. A livello istituzionale, non di diffusione, c'è qualche possibilità di intervenire? Vorremmo avviare una petizione per far capire che comunque l'esigenza è tanta e per avere dalla nostra anche un numero di persone certificato sulla carta che richiede l'apertura della sede. Inoltre, se la situazione non dovesse sbloccarsi, saremo pronti anche a organizzare un sit-in, anzi per la precisione un presidio fuori parazzo banonale in cui richiediamo appunto l'apertura della sede. Noi dobbiamo ricordarci che prima della chiusura, avvenuta ormai 15 mesi fa, per varie ragioni tra cui il Covid, l'aula studio contava almeno 40 ingressi giornalieri, per cui veramente l'esigenza di riaprirla è fondamentale e tra l'altro è anche un dovere, è anche una mansione che ricade in chi ricopre le figure istituzionali che dovrebbe svolgere questo di lavoro, quindi aspettiamo che ognuno faccia il proprio lavoro. C'è stata già un'ampissima partecipazione sui nostri canali di Instagram e Facebook e adesso veramente noi abbiamo avuto, a parte molte, molte persone che ci hanno contattato per riaprire proprio l'aula studio che è un servizio fondamentale e sappiamo anche che la petizione avrà un grande successo e è anche il sit-in che proporremo qualora la situazione non dovesse sbroccarsi. Ovviamente tutto il sit-in lo svolgeremo nel massimo del rispetto delle norme sanitarie del Covid, però ci teniamo a far sentire la nostra presenza anche dal vivo se la situazione continuasse così. Grazie per la cortesa attenzione, per info e segnalazioni potete contattarci alla mail redazione-tvcity.it o al numero di telefono 340-6561-484. E con questo è veramente tutto, vi do l'appuntamento a domani con altri servizi. Grazie per la visione!